Una grande sondrio capace di ascoltare le esigenze dei cittadini, di stare a fianco delle famiglie, di dialogare sia con la Regione che con i comuni limitrofi, di guardare al futuro puntando sul territorio. E' quella che ha in mente Marco Scaramellini, candidato sineco del centro-destra per la città-capoluogo. 53 anni il prossimo 15 ottobre, segno zodiacale, bilancia, Scaramellini è nato a Chiavenna, dove per 10 anni è ricoperto la carica di assessore tecnico, l'urbanistica e lavori pubblici. E' presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri. All'Hotel della Posta la presentazione ufficiale, al suo fianco il consigliere e prossimo assessore regionale Massimo Sertori, i coordinatori provinciali di Forza Italia Filippo Rebai e di Fratelli d'Italia Ivan Bettiga, il consigliere di sondrio liberale Andrea Massera, i popoli retici rappresentati da Ivan Munarini. Ho deciso perché sono stato avvicinato da degli amici che mi hanno chiesto la disponibilità, cercavano una persona civica equidistante che non fosse impegnata in politica e dopo aver riflettuto attentamente ho deciso di dire di sì per senso civico con un grande entusiasmo. Quali sono le liste che la sostengono? Dunque avrò sei liste a sostegno, una la cosiddetta lista del sindaco, composta da persone civiche che non hanno esperienze di politica precedenti, poi avrò un'altra lista civica che è sondrio liberale, poi avrò i popolari retici, poi avrò Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. In cosa deve cambiare sondrio? Beh, sondrio deve cambiare per essere più viva. Riteniamo che la congiuntura abbia portato sonde a un punto in cui cambiare è necessario, ma non cambiare tanto per cambiare, cambiare per migliorare insieme e in particolare vorremmo cambiare il modo di governare e amministrare questa città.